ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi andiamo a realizzare la mia agenda per il 2019 questo qui sarà soltanto il setup e quindi solo una piccola parte della mia agenda quella che sto realizzando ora è appunto la prima pagina dove vado a scrivere l'anno e delle frasi motivazionali che poi andrò a rileggere appunto durante tutto l'anno la seconda pagina è quella dedicata al calendario quest'anno ho deciso di farlo a mano è un po più lungo ma mi sembra che venga un po più carino e semplicemente ho diviso la pagina in 12 quadrattini ogni quadrattino ha una barra sulla parte alta in cui andrò a scrivere il nome del mese e che vado a colorare alternando due colori quindi per la prima fila l'azzurro per la seconda giallo e poi così via dopodiché vado a scrivere i mesi i nomi dei mesi dell'anno con un pennarello in modo che siano ben visibili e poi con molta pazienza incomincio a riempire anche i vari giorni del mese quindi comincio scrivendo sempre con un pennarello nero i giorni della settimana e poi con una penna vado ad inserire mese per mese tutti i giorni dall'uno al 30 dall'uno al 31 insomma quelli che servono intanto che io continuo a scrivere tutti i giorni del mese per tutto l'anno voi ricordatevi di lasciare un mi piace al video come supporto se vi piace questo video questa tipologia di video lasciatemi scritto nei commenti in modo da farne altri iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto condividete il video con i vostri amici e lasciatemi un commentino sotto il video lasciandomi i vostri pareri vostri consigli e ditemi soprattutto se vi piace questa tipologia di video in modo che io possa realizzarne ancora vado a realizzare la pagina successiva questa è la pagina dedicata ai momenti più belli dell'anno mese per mese ho realizzato 12 caselline in cui andrò appunto a realizzare a scrivere a una frase oppure a incollare una foto o non so qualcosa che mi ricordi il momento più bello di quel mese lì e vado a colorare queste caselline anche qui ogni fila di un colore diverso per la prima ho scelto l'azzurro per la seconda il verde e per l'ultima il giallo ed infine il titolo della pagina che è il che è best of 2019 a questo punto vado ad inserire anche tutti i nomi dei mesi e anche questa pagina è finita ed è una di quelle pagine che mi piace di più non esteticamente ma proprio per il concetto la pagina successiva è quella dedicata agli obiettivi che sono sia obiettivi di lavoro che personali che per la famiglia insomma e anche qui ho realizzato delle caselline che vado a colorare di due colori diversi alcune di verde e alcune di azzurro semplicemente per colorare non per importanza insomma e anche qui vado ad inserire ogni casellina avrà un obiettivo ne ho già aggiunti alcuni come per esempio quelli dedicati al al canale di youtube insomma con la quale spero quest'anno vivamente di riuscire ad arrivare a determinati obiettivi la pagina successiva è dedicata alle wishlist quindi alle liste dei desideri anche quest'anno ho deciso di dividerle in categorie e questa lista dei desideri è molto basica perché vado semplicemente a realizzarla con una barra diciamo con il titolo con la categoria che ho scelto quindi potrebbe essere travel, family, work, beauty eccetera e poi semplicemente una volta che ho inserito il titolo vado a realizzare dei pallini verdi sulla quale ogni pallino appunto sarà un desiderio ecco ed infine come ultimo tocco vado a inserire appunto i nomi delle categorie per quanto riguarda le mie wishlist la prossima pagina è dedicata al planner annuale ve le sto mostrando in realtà in ordine sparso perché non è questo l'ordine che ho inserito in agenda ma poi alla fine ve la faccio vedere con l'ordine giusto vi faccio un recap in cui vi mostro l'agenda con l'ordine giusto questo qui è un planner appunto annuale in cui vado ad inserire tutti i 12 mesi sto realizzando appunto delle caselline su due pagine, 6 mesi per pagina in modo da avere una visuale orizzontale di tutti i 12 mesi in cui andrò ad inserire i momenti più importanti quelli da ricordare, degli appuntamenti, compleanni, feste, occasioni speciali che insomma matrimoni, riunioni, insomma qualsiasi cosa io debba tenere sotto controllo durante l'anno per potermi organizzare bene mese per mese in modo da avere tutto tutto sotto controllo e riuscirmi appunto ad organizzare mese per mese in questo modo ho tutto sotto controllo e anche qui insomma tutte le caselline sono realizzate in modo molto basico in cui vado ad inserire il mese dell'anno e poi dei quadratini che poi saranno appunto i vari appuntamenti o le cose da ricordare come ultima pagina che vedete insomma che realizzo è l'indice l'indice che è realizzato in diversi gruppi ogni gruppo è appunto dedicato ad una sezione quella che vado a realizzare oggi è quella del setup annuale ed è appunto l'indice in cui vado a mettere il nome della pagina e la pagina in cui posso trovarla gli altri indici saranno di altre categorie come per esempio la casa, il lavoro, il planner mensile e settimanale se volete vederli me lo lasciate scritto giù in un commento che andiamo a realizzare anche questi qui assieme e niente con questo è tutto ora sto realizzando appunto l'ultimo disegnino che è quello col titolo dell'indice e andiamo a fare un recap completo quindi questo è il risultato finale ora andiamo a vedere pagina per pagina la prima che abbiamo realizzato è l'indice ovviamente in cui vado a scrivere il titolo della pagina e poi la pagina in cui posso trovarlo e qui ho realizzato l'indice in sezioni la prima che ho realizzato è quella appunto il setup del 2019 e poi queste altre le andremo a fare eventualmente più avanti in altri video se vi piacciono lasciatemelo scritto sotto nei commenti e questa è appunto la prima pagina la seconda pagina è questa che è quella che poi alla fine è la prima vera pagina dell'agenda in cui ho scritto l'anno e delle frasi motivazionali che poi magari durante l'anno andrò ad aggiungere subito dopo troviamo il calendario annuale quest'anno ho deciso di farlo a mano e mi serve appunto per vedere le varie festività e poi i giorni della settimana e avere un po' tutto sotto controllo l'intero anno dopodiché c'è il planner annuale anche qui ovviamente ci sono tutti i mesi e qui andrò ad inserire tutte le varie date importanti quindi le festività i compleanni le vacanze vari appuntamenti importanti riunioni qualsiasi cosa molto importante che devo assolutamente ricordare e che mi serve sempre per avere la visione completa durante l'anno dopodiché c'è il meglio del 2019 e qui ogni anno andrò ad inserire una foto o una frase o un'immagine che mi ricorderà il momento migliore di quel mese ovviamente se ce ne sarà più di uno andrò a incollarli magari uno sopra l'altro a mo' di libricino ma comunque in linea di massima ho l'intenzione di mettere soltanto uno e mese per mese appunto dedicare questa pagina al momento più bello di quel mese per poi ricordarmelo e darmi anche motivazione insomma per i mesi successivi ed infine ci sono queste due pagine quella dei goals e poi le wish list quindi la lista dei desideri e gli obiettivi che mi sono proposta per quest'anno come sempre le wish list le ho divise in varie sezioni quindi che ne so viaggi, famiglia, casa, bellezza, personale eccetera e i vari goals, i vari obiettivi ho semplicemente realizzato dei quadrati in cui ogni quadrato all'interno ci sarà un obiettivo per il momento ne aggiunti alcuni ma ne aggiungerò anche altri insomma e poi anche nel corso dell'anno se dovessero aggiungersene altri realizzerò un'altra pagina niente questo è il setup per il 2019 ci sono altre pagine ovviamente nella mia agenda quelle dedicate al setup mensile quindi mese per mese quelli dedicati alla casa quelli dedicati al lavoro se volete vederli fatemelo sapere giù in un commento lasciate un mi piace al video se vi piace questa tipologia di video se vi piacciono le agende se ne volete altri di video come questi o anche solamente come supporto e con questo è tutto noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video ciao 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 ciao